ehi la ciao a tutti oggi parliamo di rumore non il semplice caos ma un rumore ben preciso quello bianco e quello rosa in ambito audio il rumore bianco e quello rosa sono segnali con caratteristiche ben precise che vengono usati a scopo di test per taratura di impianti e macchine e anche per fare sintesi sonora per questo è molto interessante sapere come sono costruiti a livello tecnico e come suonano partiamo dalla base un qualsiasi suono è costituito dalla somma di componenti sinusoidali ogni componente ha una sua frequenza e una sua ampiezza ok se questo concetto è troppo difficile o comunque non l'avete mai affrontato facciamola veramente semplice immaginiamo che un qualsiasi suono può essere costruito partendo da un suono base questo suono di base è la sinusoide e funziona più o meno come il mattoncino della lego assemblando tanti mattoncini semplici otteniamo una figura più complessa allo stesso modo assemblando tante sinusoidi semplici otteniamo un suono che può essere molto molto complesso tutto questo l'abbiamo già visto in qualche modo con l'analizzatore di spettro che riesce ad appunto a scomporre il suono in tutte le sue componenti di base detto questo andiamo a vedere com'è fatto il rumore bianco ok prendiamo il nostro classico diagramma frequenza e ampiezza ecco qua frequenza e ampiezza frequenza che va da 20 hertz a 20 kilohertz ampiezza diciamo che va da 0 a 100 db ora da che cosa è composto il nostro rumore bianco il rumore bianco è composto da tutte le componenti sinusoidali comprese nel range dell'udibile quindi 20 20 kilohertz ipotizziamo con un intervallo di un hertz tra una componente e l'altra è un'ampiezza delle componenti costante quindi avremo per esempio la prima componente a 20 hertz e 100 db la seconda componente per esempio la mettiamo qui a 21 hertz eccola qua sempre 100 db terza componente per esempio 22 hertz 100 db e via discorrendo per esempio la nostra componente qui abbiamo circa un kilohertz scala logaritmica alla nostra componente avrà un kilohertz eccola qua 100 db a 1 kilohertz 111 hertz più o meno sta qui eccola qua sempre 100 db e fino ad arrivare a 20 kilohertz ecco qua sempre a 100 db ovviamente coprendo tutto lo spettro dell'udibile abbiamo tutte le frequenze tra 20 e 20 kilohertz e lo spettro del rumore bianco graficamente sarà una linea orizzontale di ampiezza 100 e quindi qualcosa tipo questo qui abbiamo tutte le nostre frequenze a 100 db e quindi il nostro rumore bianco sarà qualcosa che più o meno fa così ok ora facciamo una considerazione ad ogni ottava cioè ogni volta che raddoppiamo la frequenza il numero di componenti sinusoidali raddoppia infatti mettendo una componente ad ogni hertz troviamo che da 20 a 40 hertz alla prima ottava ci sono 20 componenti raddoppiando da 40 a 80 hertz alla seconda ottava abbiamo però 40 componenti raddoppiando ancora da 80 a 160 hertz abbiamo 80 componenti e così via questo comporta che più saliamo in frequenza più componenti ci abbiamo e più l'energia del suono quindi è maggiore questo fa sì che il suono del rumore bianco che poi ascolteremo ed analizzeremo sia molto spostato sulle frequenze alte per ovviare questa situazione si utilizza il rumore rosa che è molto simile al rumore bianco ha sempre lo stesso numero di componenti da 20 a 20 kilohertz è una componente per ogni hertz diciamo ma succede una cosa particolare ad ogni raddoppio di frequenza l'ampiezza diminuisce di 3 db così da far risultare costante l'energia in ogni ottava allora frequenza ampiezza 20 20 kilohertz 0 100 db a 20 hertz abbiamo 100 db a 40 hertz abbiamo 97 db 97 a 80 abbiamo 94 db sempre meno 3 db a 160 avremo 91 eccetera eccetera quindi vediamo che c'è una pendenza verso il basso in maniera decrescente di 3 db per ogni ottava ne risulta a livello di spettro sempre una linea che stavolta però pende verso il basso questo è un puro e semplice espediente matematico che ci permette di avere un suono acusticamente più equilibrato e quindi io direi che anche oggi ci acchiappiamo un bel paio di cuffie eccole qua e andiamo ad ascoltare ed analizzare il rumore bianco e il rumore rosa ho preparato il nostro ambiente di lavoro con due tracce un rumore bianco un rumore bianco sopra eccolo qua white e rumore rosa qua sotto questi due rumori che ho generato precedentemente ho messo subito uno span nostro analizzatore di spettro sulla prima traccia e vado subito a configurarlo per lavorare con il rumore bianco dobbiamo aggiustare qua sulle impostazioni il parametro slope cioè la pendenza e utilizzeremo il valore 0 perché come abbiamo detto il rumore bianco ha tutte le componenti allo stesso livello quindi con pendenza 0 ok chiudo anche hide matter stats così abbiamo lo spettro più grande ascoltiamo bene questo è il rumore bianco un rumore che sicuramente avete già sentito è simile al rumore della pioggia spesso viene utilizzato anche per relax eccetera ora sapete com'è fatto ora mettiamo lo span anche sul rumore rosa ok ascoltiamo ok bene con le stesse impostazioni vediamo qui che la pendenza è appunto di meno 3db per ogni ottava il suono è simile al rumore bianco però è più equilibrato tra basse e alte allora per facilitare la visualizzazione possiamo mettere una compensazione della pendenza nell'analizzatore di spettro a livello grafico con uno slope pari a 3 ok eccolo qua allora il nostro suono è rimasto lo stesso ma a livello grafico otteniamo una linea retta senza pendenza e diciamo che questa è la condizione ideale per i nostri esperimenti con il rumore quindi abbiamo il rumore rosa che è molto equilibrato tra basse e alte e la visualizzazione comunque lineare piatta ok questo che abbiamo trattato oggi cioè l'argomento del rumore è un argomento un po' tecnico però è anche molto utile e questa utilità la vedremo proprio nel prossimo video e quindi per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima ciao